Grazie Alessandro per la linea e benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Studio 107 Milano nella rubrica Quarta di copertina di Michi. Per questo podcast ho pensato di coinvolgere il mio amico Fabrizio per parlare con lui di Ken Follett. Appena gli nomino il nome vedo i suoi occhi illuminarsi e scatto un leggero sorriso compiaciuto. Cosa dire del grande Ken Follett che non si è già stato detto, scritto, discusso e stabilito? Probabilmente nulla. Mi dice Fabrizio effettivamente non ha tutti i torti stiamo parlando di uno scrittore che ha venduto più di 150 milioni di copie dei suoi libri. Nasce a Cardiff nel Galles il 5 giugno del 1949 inizia a scrivere romanzi la sera e nei fine settimana come hobby. Il successo arriva nel 1978 con la pubblicazione di La cruna del lago, un thriller ambientato durante la seconda guerra mondiale e divenne celebre in tutto il mondo. Il libro vince l'Edgard Howard. Che Fabrizio tutta la sua produzione è basata su una profonda conoscenza della storia e dei suoi protagonisti. Ken intreccia sapientemente le vite dei personaggi storici realmente esistiti con quelle inventate ma profondamente verosimili dei suoi eroi. Ma come Ken? Ha un modo di parlare di lui come se fosse di casa. Poi mi rendo conto, alzando lo sguardo, Fabrizio ha tutta la serie dei libri di Ken appunto e prosegue. È capace di spaziare con maestria dal periodo medievale alle vicende legate alla seconda guerra mondiale e alla guerra fredda. In effetti Ken, a questo punto gli do del tuo anch'io, attraversa diverse fasi letterarie. La prima dove ci fa incontrare tutte variazioni del classico thriller di spionaggio. L'ambientazione è geograficamente e cronologicamente diversa. Si passa dalla prima guerra mondiale alla campagna del nord Africa fino ad arrivare alla guerra sovietico-afghana. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 è maggiormente concentrato sui romanzi storici. Citerei I pilastri della terra, libro che ha venduto oltre 14 milioni di copie. Ambientato nell'Inghilterra del XII secolo, si svolge parallelamente alla costruzione di una cattedrale affiancando alla storia della chiesa la vita di svariati personaggi. Verso la fine degli anni 90 cambia ancora genere con un paio di libri ambientati nel presente incontrando le tecnologie avanzate come filo conduttore. Torna comunque al genere storico con Mondo senza fine, sequel dei pilastri della terra e nel 2020 è stato pubblicato il prequel intitolato Fu sera e fu mattina. Lo scultore basco Casto Solana ha realizzato una statua che lo ritrae a grandezza naturale e si trova a Vittoria in Spagna. Lui stesso la inaugurò in occasione della presentazione di Mondo senza fine. Aggiunge Fabrizio dai suoi libri sono stati tratti memorabili film e serie televisive e io lancio il mio asso nella manica. Io, mio caro Fabrizio, ho visto la miniserie I pilastri della terra, serie prodotta da Ridley e Tommy Scott. Tra l'altro, cari ascoltatori, se non l'avete vista io ve la consiglio e la potete trovare su Sky oppure su Now TV. E invece io, dice Fabrizio, ho adorato la cruna nel lago con la memorabile interpretazione di Donald Sutherland nelle vesti della spia nazista. Pensate che lo stesso Ken, oramai ci ha proprio preso gusto, ha fatto una breve apparizione nella miniserie televisiva I pilastri della terra. Mentre ero lì tutta presa che parlavo con Fabrizio avverto un leggero disagio e mi rendo conto di una figura alle mie spalle che ci guardava. Mi giro e riconosco la figura di sua moglie, di Fabrizio intendo. Realizzo che era davvero tardi, però non poteva andarmene senza avere un consiglio di lettura da parte sua per gli ascoltatori. A mio parere, dice Fabrizio che con calma serafica e senza minimamente considerare il piedino nervosetto della moglie, il suo libro migliore è il Codice Rebecca che descrive magistralmente il fronte dell'Africa nella seconda guerra mondiale. I suggestivi scenari del deserto si alternano con la descrizione della vita nella città del Cairo in quei frenetici giorni. Mentre Rommel prepara l'invasione dell'Egitto e un giovane Sadat sogna all'indipendenza del suo paese, l'ufficiale inglese William Van Damme è a caccia dell'imprendibile spia nazista Alex Wolff. A chi non l'ha letto, il Codice Rebecca lo consiglio vivamente. Dillo ai tuoi ascoltatori, mi dice Fabrizio. A questo punto Alessandro, raggiunto il mio obiettivo, mi sono affrettata a prendere le mie cose, il libro consigliato da Fabrizio che mi ha prestato e sono uscita di corsa dalla loro casa. Credo proprio che la prossima volta che lo contatto, perché ci sarà una prossima volta, lo farò per telefono. A te Alessandro.